Se ne esce con E tu cosa fai di lavoro oltre ad avere gusti pessimi, musicali e un parrucchiere davvero rivedibile, a meno che tu non sia albanese? E io veramente stizzito dentro la sparo grossa. Eh sai, io faccio il comico. E lui fa quell'errore che commettono tutti. Ah sì, davvero? Fai il comico? Perché non ci fai ridere? Io penso, vabbè, peggio di così, non è che possa andare. E gli chiedo, cosa pensa di tutte queste giornate mondiali che si celebrano ogni giorno? E lui mi risponde, guarda, secondo me non servono un cazzo. Oh, penso, finalmente abbiamo un punto in comune. Allora questa ti piacerà. Giornata contro la violenza. Giornata contro il razzismo. Giornata contro l'omofobia. Allora ditelo, non ci si può più divertire.